il valore nel made in italy nel mondo per berkel è sicuramente una componente aggiuntiva che favorisce il nostro successo e la notorietà del marchio che si ricollega comunque ad una grande storia di design innovazione e prodotti legati al mondo del lusso e della elevatissima performance professionale il beneficio aziendale principale derivante dalle attività associative è quello di condivisione delle informazioni legate all'andamento dei mercati legate all'andamento delle esigenze di quelli che sono i nostri clienti sia nell'ambito professionale che nell'ambito consumer ci dà la possibilità di condividere quella che è una sorta di piattaforma informativa che permette una maggiore e migliore conoscenza dei mercati Grazie 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 Grazie